Ciao, mi chiamo Marta e anche io mi sono trasferita da poco in una casa nuova. Appena arrivata la casa era spoglia, senza un animo, ma grazie a Erika Franzoni e a Intuizioni d'Arredo ho trovato il mio consulente ideale. Erika infatti da subito è stata disponibile per una consulenza online dove dopo averle mostrato gli ambienti della casa e anche le mie idee mi ha saputo consigliare la soluzione migliore. Consiglio a tutti Intuizioni d'Arredo, non solo per il gusto e la passione che mettono nella cura di ogni dettaglio, ma anche per l'assistenza che possono darti nelle tue necessità quotidiane, in quanto l'assistenza è anche digitale, non solo personale, ma anche online. Quindi consiglio a tutti Intuizioni d'Arredo di Erika Franzoni.